Sacchi dell'immondizia accatastati e abbandonati ormai da un anno. Sul ciglio della strada provinciale 194, tra pieve del Cairo e la frazione Tortorolo di Mede. C'eravamo già occupati del problema delle discariche abusive in Lomellina, un problema che da ultimo è stato sollevato anche dai sindaci, preoccupati dai costi di smaltimento che vanno poi a ricadere sulle tasse dei rifiuti, a spese dei cittadini. Il caso della discarica abusiva sulla provinciale 194 in aperta campagna tra pieve del Cairo e Tortorolo è per certi versi singolare. Nell'ottobre del 2022 un camion che trasportava materiali inerte si era ribaltato in quel tratto, finendo la propria corsa in un fosso di accente alla carreggiata. I sacchi contenenti lo sversamento del camion sono stati poi riempiti da una ditta incaricata della bonifica del mezzo pesante ribaltato. Ma da allora i sacchi non sono stati più rimossi sul cilio della strada, in attesa, come fa sapere il sindaco di pieve del Cairo, Nicolò Capittini, di essere conferiti a una discarica autorizzata. Il primo cittadino ha precisato che si sta aspettando le condizioni meteo favorevoli e che si possa accedere all'area in sicurezza, senza danneggiare i raccolti. Ma quella tra pieve del Cairo e la frazione Tortorolo di Mede non è l'unica discarica abusiva segnalata negli ultimi giorni. A Lomello, lungo la strada per Villa Biscossi, sono stati rinvenuti tracce di materiali edili, tra cui parti di cemento armato. Un problema che, come fa sapere il sindaco Silvia Ruggia, è comune anche lungo le rive del torrente Agonia. Per permettere di accedere alla strada in sicurezza, il comune di Lomello ha incaricato una ditta per rimuovere i grossi blocchi incastrati nel terreno, che non potevano essere conferiti nella piazzola ecologica, ma solamente a un centro preposto per il ritiro. Ricordando che a breve anche a Lomello si arriverà la raccolta puntuale, ovvero che si pagherà i rifiuti in base a ciò che si produce e che le spese di smaltimento finiscono per ricadere sulla comunità, il sindaco Ruggia ha voluto fare appello a un maggiore senso civico dei cittadini.